Ah, finalmente sono al cinema, sto per vedere, mi ha encontrato il film, vacanze in Transilvania, è tutto pronto, ho preparato i pop corn giganti, peccato solo che non c'è lui perché era impegnato, inizia! Non c'è nessuno! Ma chi è? Ehi, non lo so. Sì? Ma lui, ma cosa c'è parla di qua?